Lo specch fa parte della nostra cultura sottirolese. Io, per esempio, nato in una valle contadinesca, nelle montagne, già da piccolo ho mangiato dello specch. Era una cosa molto costosa e poi dava anche forza. Io personalmente non ho fatto scalata e neanche spedizione senza un pezzo di specch nello zaino o sulla flitta attraversando, per esempio, l'Antartide. Uno degli elementi fondamentali per la produzione di specch di alta qualità è la materia prima. La produzione dello specch alto adige IGP dell'azienda Moser inizia con una severa selezione e rigidi controlli delle cosce di suino fresco. Il personale perfettamente formato controlla ogni singolo prosciutto che deve soddisfare in pieno criteri di qualità, precisi in fatto di freschezza, percentuale di grasso e valore del pH. Non tutti i prosciutti rispondono a questi severi requisiti. Soltanto i migliori superano questa difficile prova e vengono lavorati da Moser. Tutto ha inizio con un segreto di famiglia tramandato di generazione in generazione. Ogni prosciutto viene massaggiato con questa ricetta speciale che comprende una miscela di sale marino e tante altre spezie scelte come pepe, alloro, ginepro o rosmarino. Questa regala un sapore speziato unico e assicura inoltre la necessaria conservazione del prodotto. Questa fase della cosiddetta salmistratura a secco dura tre settimane, consentendo al sale di penetrare lentamente e delicatamente nella carne. In seguito le baffe vengono sottoposte a cicli successivi di affumicatura con legno poco resinoso e asciugatura all'aria fresca. In questa fase le baffe formano uno strato di muffa naturale aromatica che non soltanto impedisce un eccessivo essiccamento dello spec, ma gli conferisce anche quel gusto inconfondibile e caratteristico di funghi e frutta secca. Il personale appositamente formato verifica inoltre l'aspetto e le note olfattive dei prodotti di alta qualità con l'aiuto di un osso di cavallo. Al termine del suo lungo processo di produzione lo spec viene confezionato sotto vuoto. Questo consente il mantenimento degli aromi caratteristici, la protezione del gusto inconfondibile e il mantenimento della giusta consistenza. Questa specialità di alta qualità e ampiamente apprezzata può così mettersi in viaggio per raggiungere tutti i paesi del mondo. Una volta in cima alla vetta del gusto non resta che una cosa da fare. Gustare lo spec come si deve. Grazie a tutti.